Siamo nella sede della scuola d'Algarese Pasqual Scano, in compagnia di Don Nugues, direttore e professore della scuola. Da quanti anni esiste la scuola d'Algarese Don Nugues? La scuola sta fondata nel 1982, Don Sanguan ha avuto i 27 anni di attività didattica. E la abbiamo fondato per dare la possibilità agli algarese che già parlavano la lingua di sapere leggere e scrivere in maniera corretta e non solo una cosa a riservare a un'elite intellettuale o di gente di cultura. E viene frequentata da persone di tutta l'età? La frequenza è evidentemente, la scuola è subito a tutti, naturalmente la preponderanza di chi frequenta la scuola è gente che già la palla, però teniamo una grossa percentuale anche dei giovani che hanno cresciuto in senso e stanno accostando la lingua. Il problema della nostra lingua all'Algarese è probabilmente che si va perdendo tra le generazioni più giovani. Quali sono le iniziative, secondo lei, le azioni da promuovere per salvaguardare la nostra lingua e il patrimonio culturale di Alghero? Ma credo che la prima cosa dei fessi che i genitori parli non sfilzano all'Algarese, non è altro sistema. Tutte le altre cose sono cose che possono aggiungere, però la cosa fondamentale è che se la lingua non è la lingua di casa, non resta la lingua.